Sabato 7 maggio alle ore 16 e l'Anfiteatro Romano di Arezzo si tingerà di blu grazie all'iniziativa Iogismo che ogni anno si ripete in favore dell'Associazione Autismo Arezzo. In questo evento si praticherà yoga di vari stili grazie alle lezioni guidate dai maestri Giuseppe Storani, Thomas Baldi, Martina Zigiotto e Michela Berti e in tale sede ovviamente si richiede di portare un tappetino o un telo tipo coperta proprio per poter praticare liberamente sull'erba. Ci sarà anche una lezione per bambini di yoga, abbiamo pensato anche a loro, con la maestra Luciana Bancone e proprio per questo richiediamo anche di avere un outfit inerente a quello che è il colore dell'Autismo Arezzo di un accessorio di un celeste brillante, un blu brillante. L'offerta minima è di 10 euro, l'intera somma che verrà raccolta sarà ovviamente devoluta all'Associazione Autismo Arezzo, si ringraziano ovviamente anche il Museo Archeologico e l'Anfiteatro Romano che ci hanno ospitato in questa bellissima location per poter fare una bella condivisione per una situazione libera in questo momento.